Rientrano anche queste nelle iniziative che sta portando avanti il Rotary in questo anno rotariano nelle sue linee programmatiche e cioè quello comunque di promuovere idee, progetti e iniziative che valorizzino comunque la nostra città proprio per incrementare il senso di appartenenza alla nostra città. Il Rotary ama la guppio. E fu invitato da mio nepote l'architetto Francesco Rossi di Città di Castello alla presentazione di un libro che è questo qui Le antiche ore di Bifani e Suvieri. In questo libro vengono riportate tutte le meridiane dell'Umbria molto belle, ben tenute, alcune diciamo da restaurare eccetera però quello che io ho notato è che queste meridiane, praticamente quelle su lastra, sono anonime allora mi è venuta l'idea di farne realizzare una per gubbio dove ci sono i simboli di gubbio e dove non può stare che a gubbio per cui ho realizzato insieme a mio nipote questa meridiana che con lo stemma della chiesa eugubina e lo stemma della nostra associazione del Rotary Club di gubbio questa meridiana gli ho dato anche il nome solarium iguvinum cioè orologio solare di gubbio poi questa meridiana ha una grafica che rappresenta lo scorre delle ore per cui le ore sono riportate in nome dei romani e c'è una caratteristica che lo stilo che fa l'ombra a un certo punto ha un anello questo anello lascia passare un raggio di sole questo raggio di sole il 17 gennaio, il giorno di Sant'Antonio Abate scorre in una linea nera e vicino c'è la fiamma di Sant'Antonio il 23 di aprile scorre in una linea azzurra San Giorgio e c'è il cimiero di San Giorgio naturalmente il 16 maggio scorre in una linea gialla e c'è il pastorale poi è indicata ora locale poi le coordinate geografiche e una frase in latino che in italiano vuol dire al tempo e ai matti non si comanda